Seconda sconfitta consecutiva e secondo stop stagionale casalingo per la Gaudium Basket superata ieri dal Marsala nella settima giornata di campionato con il punteggio di 74-72. Contro la formazione trapanese dell'ex Gaetano Festino, i ragazzi di coach Zugno sono apparsi in alcuni tratti di gara svogliati e distratti, consentendo al pur non trascendentale Marsala di accumulare un importante vantaggio già nei primi due quarti di gara. Al ritorno dall'intervallo lungo i biancorossi hanno decisamente cambiato marcia, stringendo le maglie difensive fin troppo larghe fino a quel momento, riuscendo così a ridurre lo svantaggio arrivato ad un solo punto al termine del terzo quarto. Partita che quindi si è decisa negli ultimi dieci minuti e purtroppo per la Gaudium la bassa percentuale al tiro mantenuta per l'intero match si è rivelata alla fine decisiva. Infatti nella sfida punto a punto dei minuti finali decisivi sono stati gli errori dalla lunetta di Vanni e Di Marco, 0 su 6 per loro, e quelli dalla media distanza di Sena e Beltran che hanno vanificato così le oltre 30 palle recuperate nel corso della gara della Gaudium. Nel finale la formazione canicattinese ha avuto la palla del sorpasso, fallita da Di Marco da 3, e poi sul rimbalzo proprio allo scadere Beltran ha sbagliato il tapine che avrebbe portato il match ai supplementari. Nel prossimo turno di campionato i biancorossi andranno a far visita al gele in un match che dopo due sconfitte di fila diventa molto importante per il futuro della Gaudium.